Mirabeau, Maserati, ultimo tornante del chisallo, ormai ci siamo poche centinaia di metri e siamo su alla chiesetta ci siamo rasgredati un po' nell'intermezzo in discesa ultima rampetta c'è un po' d'aria clima autunnale 10% 12% ci siamo adesso con la curva vediamo la chiesetta 15% ecco sulla sinistra a spuntare il museo e la nostra chiesetta Magreglio madonna del chisallo la sua la sua la sua la sua la sua allora la sua la sua la sua vale è nasce è finita